Ciao ragazzi e benvenuti all'interno del canale ed in questo nuovo video. Eccolo qui il ricambio che dovremo andare a sostituire in questo video. Non è nient'altro che il pulsante di apertura. Cosa succede però a questo pulsante? Con il tempo si danneggia e la membrana che c'è esternamente, questa, che serve a proteggere tutta la parte interna, si rovina proprio, salta via. Io ho già provato su quello vecchio ad andare ad aprirlo, andare a ripulire un po' il tutto, togliere eventuali tracce di ossido, però poi con il tempo ricompare. L'unica soluzione è quella di andare a sostituire il ricambio. Ve lo lascerò linkato sotto nelle descrizioni. Il ricambio veramente costa pochissimo, 10-15 euro al massimo. E l'operazione, come adesso vi faccio vedere, è davvero semplice da fare. Direi di non perdere altro tempo e metterci all'opera. Andiamo? Dai! Mi sono scordato di dirvi che il ricambio è compatibile non solo per la Renault Clio, ma anche la Laguna, la Megane, Captur, Twingo, insomma un po' di auto del gruppo Renault. Qui ho il mio bel nuovo ricambio che mi fa capire sostanzialmente come andarlo a smontare. Le vedete le due alette che sono a lato? Dovremmo andarle a premere e forzare il tutto verso l'esterno. Vi ricordo di utilizzare una piccola leva in plastica per non andare a rigare quello che è la carrozzeria. Cacciavite piccolo a taglio, semplicemente faccio leva in questo punto, alzo un po' la linguetta e cerco di sfilare via il tutto. Una sprozzatina di spray per contatti qui sulla spina, soffiatina e su il pulsante sentirete un piccolo click. Ed eccoci qui a lavoro terminato. Come potete vedere ora non perde un colpo. Prima di salutarvi vi ricordo ovviamente se ancora non l'avete fatto di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video. E ho qui adesso il dito che sta partendo perché dovete anche mettere un bel like. Per questo video è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!